e niente rimandiamo un'altra volta i festeggiamenti ormai veramente stiamo sperando il ridículo nel senso che sappiamo tutti che ormai è fatta però non possiamo festeggiare fino al 100% e che manca sempre quel piccolo pezzettino manca sempre quel centissimo per fare un euro e va bene lo accettiamo se la vita è deciso che deve andare così il finale di stagione alzo le mani abbiamo perso questi tre punti un pochino a polli perché è una partita completamente dominata che ti sfugge quasi del tutto di mano verso il finale perché abbiamo rischiato pure di perderla a un certo punto incredibile a dirsi è strano però in realtà è anche in tendenza con le stagioni di Spalletti in cui le finali di stagioni sono sempre horror l'abbiamo provato anche l'anno scorso solo che fortunatamente quest'anno noi abbiamo un margine piuttosto grosso con cui giocare diciamo che le ultime serie di partite del Napoli non sono entusiasmantissime a parte quella lì con la Juventus che per sua natura ci sta che te la porti a casa 7 la porti a casa con con grandissima difficoltà però devo dire che tutte queste ultime partite sono piuttosto asettiche vabbè per ognuna c'è una scusa che con il Lecce vince una partita con autogol però c'è la testa alla Champions col Verona parigi una partita in cui praticamente nessuna delle due gioche perché c'è la testa alla Champions con la Juventus è una partita come sappiamo complicatissima questa qui con la Salernitana pure è stata una partita sì di emozioni però a livello calcistico è stata una partita molto fiacca per l'appunto asettica cioè quel tipo di partita che noi stiamo vedendo sempre che tristezza però vabbè io ho 25 anni non l'ho mai visto ma scudetto in vita mia quindi sai che cazzo me ne frega di festeggiarlo oggi 30 aprile o di festeggiarlo il 4 o il 7 maggio non me ne frega niente però è solo per dire che effettivamente un po' da polli è questa perdita di 3 punti vabbè più che altro è stata l'ennesima partita dove non segniamo cioè più che fiacca a livello offensivo è proprio carente di gol cioè si può sintetizzare proprio benissimo questa frase perché cioè alla fine tu le occasioni le fai stessi il problema è che prima segnavi a Nanzaport ma no cioè è l'unica differenza è l'unica differenza perché comunque tu arrivi lì cioè Quara ha avuto due occasioni per fare il suo solito gol e non ci è riuscito per un millimetro Elmas si dribbla tutta la squadra arriva attento così e il palone esce di pochissimo e ci sta il tiro di Victor dalla distanza pure deviato una potenza incredibile e Oshawa ci arriva un po' così così però ci arriva cioè ci stanno un sacco di occasioni il cross però si mette in schiaccia di testa e Oshawa fu un miracolo e il vabbè poi c'è stato il gol di Oliveira grande ma è che l'occasione di Raspadori in mezzo all'aria quello riesce a fare la scivolata all'ultimo cioè mo se me le mette ad elencare tutte cioè sono tutte potenziali occasioni come prima solo che non hai segnato prima invece segnavi adesso non segni più cioè quindi è sempre l'ultima passata prima creassimo molto più nitidamente le occasioni cioè adesso comunque sai cosa la differenza principale è che noi prima entravamo col pallone nella porta oggi invece devi fare un tiro che è un pochino più complicato cioè per esempio Kvara no io mo me la prenderò con lui come giusto che sia perché sbaglia troppo oggettivamente sbaglia troppo però quelli sono tiri che tu devi saper fare cioè nel senso lo devi fare bene non è che tu prendi e con il compasso stretto fai un tiro sotto la traversa e hai fatto una cosa normale no devi fare un tiro proprio bello potente e preciso quindi è un po' diverso da prima dove praticamente noi non avevamo bisogno manco di tirare e infatti non lo facevamo noi arriviamo col pallone nella porta cosa che adesso è molto più complicato da fare per mille motivi diversi ovviamente per esempio il tiro che ha fatto a Kvara di Mancino che è uscito di tanto così e fece ha fatto un gol col Torino con l'uomo attaccato in sci cadendo ed è entrata in porta ha fatto palo-goal cioè non è che tutti gli altri gol di Kvara sono stati in situazioni a tu per tu col portiere che siamo entrati col polo ma anche pure la situazione il gol fatto con l'Atalanta è molto simile a quello che gli è capitato alla fine che ci sta così bene che spizza di testa era Spadoria la larga di prima e Kvara sta uno contro uno contro l'avversario invece di fare la finta ha tirato a giro e non ha segnato contro l'Atalanta se ne è dribblato i due ha segnato cioè per dirti cioè alla fine nelle occasioni sono sempre le stesse sono proprio una fotocopia il problema è che non segni quella è l'unica cosa che ti manca perché pure a livello ma i numeri lo dicono cioè i numeri lo dicono proprio tu comunque hai fatto otto tiri ventiquattro totali cioè non dalla distanza l'abbiamo fatto in area di rigore ed è quella che che fa riflettere cioè per me è proprio una squadra che ormai non vede l'ora di finire quello che ha iniziato perché non è che improvvisamente questa squadra che faceva quattro gol a partita ma non sa più creare occasioni le occasioni le crea non le c'è più a segnare ma le crea allora tu partirei a presupposto noi dovevamo contro una squadra che c'aveva una media di gol subiti contro che era quasi vicino al 2 sì sì tu che sei il Napoli che c'è una media di gol fatti che è quasi vicino al 3 gliene hai fatto solo uno ne hai subito uno evidentemente qualcosina che non va da parte 2 ci sta è il tiro è il tiro finale cioè ma ci sta non è che è impossibile cioè io ho capito non sono d'accordo se non è che le azioni siano identiche cioè per me neanche lontanamente però sì quello che manca è il tiro sicuramente quella è la cosa che manca però diciamo che non è una cosa che secondo me la squadra si può girare attorno perché tu devi concludere una cosa che ha iniziato ma tu la devi concludere così come l'hai finita perché perché se no veramente vai a pregiudicare tutto il percorso ma a me sta sullo stesso livello cioè dire che una squadra non riesce a creare e dire che una squadra non riesce a segnare è indifferente cioè comunque non stai riuscendo a fare un risultato cioè non è che li assolviamo perché comunque creano ma non segnano no se tu crei e non segni è comunque grave cioè sì sì certo ma non intendiamo dire che tu volevi dire questo sì sì non intendiamo dire che tu volevi dire questo dicevo semplicemente la squadra secondo me non deve andare in ansia ma mai in generale semplicemente perché lo stesso spirito vogliamo chiamarlo infantile vogliamo chiamarlo tranquillo nichilista stoico che ti ha portato fin qui lo devi mantenere sicuramente c'è un'ansia attorno ai giocatori perché altrimenti non si spiega a gente che prima gli bastava poco per fare tanto adesso ha tanto e fa poco è essenzialmente molto strano cioè comunque continuiamo ad essere il miglior attacco della Serie A per distacco se non va tirato la seconda dell'Atalanta no? l'Atalanta ah no forse sono diventate di più ma che c'hanno 51 gol non mi ricordo beh comunque noi abbiamo più di 60 gol quindi per distacco siamo la squadra più forte della Serie A per gol non è possibile che tu smetti di farne così preoccupantemente manca il miglior difesa cioè la stessa cosa la possiamo dire per la difesa noi non abbiamo subito gol per tutta la stagione nel finale stiamo subendo gol cioè capisci non è più una questione di abilità di capacità cioè secondo me non c'entra proprio niente non è cambiato niente nella squadra a livello tattico tecnico è cambiato a livello di testa perché io comunque le vedo le facce c'è pure una gestione del pallone che prima la facevi con una naturalezza incredibile ma sei tutto bloccato lo stesso per esempio viene in mente Rachmani che molto spesso poteva allargare di prima per Di Lorenzo e invece rimane lì perché vuole magari cercare un movimento di victory in profondità oppure qualcuno gli viene incontro e quindi si ferma fa rientrare la salernitana prima invece puh vai a Di Lorenzo perché era molto più qua invece ci stanno cercando di fare di risolvere tutti quanti la situazione e quasi si stanno pestando i piedi a vicenda però comunque arriva cioè arriviamo perché la squadra avversaria si schiaccia talmente tanto che tu ci arrivi cioè per esempio pure il colpo di testa di Osimè cioè quello è sul dischetto dell'area piccola cioè quello è una schiacciata se la faceva un po' più bassa era un gol certo cioè veramente è quasi inspiegabile il modo in cui non stiamo riuscendo a segnare secondo me troppo sì lo stesso Zinischi che ha avuto un paio di occasioni in aria la prima fa la rovesciata la prima volta poteva tirare ma non ha tirato che c'era lo specchio davanti poi gli è capito la seconda occasione che poteva passarla e scaricare il dito invece ha tentato la rovesciata cioè vedi proprio sono le scelte che sono dettate al fatto che tu vuoi non vedi l'ora di vincere quindi vai nel panico non rifletti bene e prendi le scelte sbagliate sì è una cosa su cui sicuramente si deve lavorare a questo punto non me la sento neanche più di prendermi una cosa spalletti che mette così tanto le mani avanti perché se la squadra reagisce con quest'ansia al risultato che deve arrivare allora lo voglio veramente fate finta che non avete fatto ancora niente magari la prossima la giocate un po' più tranquilli che vi devo dire ma perché capisci c'è una situazione strana che secondo me poche volte accade nel calcio così in questo modo cioè tu hai la sicurezza di vincere questa cosa lo scudetto però è è soltanto devi mettere quel fantomatico centissimo per apparare l'era cioè capisci non è che ti devi guadagnare qualcosa cioè loro i ragazzi ormai scendono in campo non per guadagnarsi la vittoria ma per finirla cioè come si riesca a mettere solo il punto non riesco a mettere non riesco a mettere il punto cioè è una situazione quasi surreale cioè ti rendi conto noi per assurdo oggi abbiamo guadagnato comunque un punto sulla seconda ma vediamo cosa farà l'avvento però abbiamo comunque guadagnato ci siamo avvicinati ulteriormente allo scudetto però stiamo tutti andando su c'è stiamo tutti andando io in questo momento mi piace a paccare perché poi vedi che ti gira tutto storto cioè pure il gol di Dià cioè Dià se lo prova altre 80 volte ma non ci riuscirà mai nemmeno l'allenamento è impossibile cioè ha fatto una giocata clamorosa che ti riesce solo mi ricordo ancora quella quella partita di Coppa Italia contro l'Empoli dove c'è quel giocatore come si chiamava Bairami forse che fece due tiri esagerati a giro ah sì caro Bairami cioè è quella situazione dove tu sei non lo sai chi ti sta facendo segnare di Ase e tu glielo chiedi ma chi ti ha fatto sì no lo so io ho provato a tirare cioè ha tirato col piede che non è suo perché è destro e ha incarrato una traiettoria perfetta cioè è quello che è pazzesco e purtroppo il calcio è anche questo tu ci provi 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 magari anche in posizioni migliori di quelle da cui ha tirato di A e non sei capace di farne altre di A ne fa uno quel tiro a disposizione veramente sì la scuola deve reagire bene perché sì lo scudetto è già vinto però secondo me lo si deve anche portare a casa con una certa dignità perché altrimenti non ci vuole niente capì a a deriderlo no boh ma tanti già lo fanno chi se non vuole vabbè io dico per loro perché a me quello che diceva la gente mi interessa dico per loro deridere loro stessi dalla vittoria che già sappiamo che c'è però ritarda sempre di più a causa nostra a causa non a causa degli altri che magari vincono le vincono tutte no le altre perdono pure punti però li perdiamo anche noi e nelle ultime forse ne abbiamo persi un pochino troppi però vabbè nelle ultime ce la siamo presa più che altro con la Champions adesso ci abbiamo solo questo pensiero quindi vabbè ci siamo giocati il 10esimo Jolly Salernitana però adesso è anche il caso di smetterla di giocarseli Jolly sì sì vabbè come dice Mourinho ricapiterà la partita dove tutti i tiri che ora stanno uscendo entreranno solo che a noi è vero solo che a noi è vero vabbè ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video non perdetevi le pagelle forza Napoli non perdetevi le pagelle